Buongiorno a tutti, siamo con Sonia Alfano, candidata indipendente per Italia dei Valori alle prossime europee, è una personalità di spicco nel mondo della lotta alla mafia, poiché lei in prima persona l'ha vissuta con la morte di suo padre, un famoso giornalista Beppe, ucciso dalla mafia nel 1993. Sonia, assistiamo in queste settimane a nuovi protagonisti che si affacciano sulla scena politica in un silenzio assordante della televisione, stiamo parlando di magistrati, cittadini comuni come te, giornalisti che hanno in comune una cosa, la lotta contro la mafia, la criminalità organizzata e i rapporti tra politica e malaffare, perché accade in questi giorni questo fatto inedito per la storia repubblicana? Credo che la candidatura di Luigi De Magistris e di Carlo Vulpio e la mia siano veramente una novità assoluta, perché è la prima volta che un partito, nella fattispecie Italia dei Valori, apre le proprie porte ai cittadini che non fanno parte di quel partito, è un segnale forte, è un segnale molto importante che attesta la volontà di Antonio Di Pietro di rinnovare non solo il suo partito, ma soprattutto di dare la possibilità a gente impegnata, a gente che comunque può essere punto di riferimento dell'associazionismo dei cittadini in modo tale da poter portare al Parlamento europeo le loro istanze. Il nostro obiettivo è proprio quello, è quello intanto di far capire all'estero e soprattutto in Europa che l'Italia vive un problema di emergenza democratica e che fino adesso è stato notevolmente bypassato e l'altro aspetto che noi non possiamo sottacere è quello che abbiamo l'interesse di portare direttamente al Parlamento europeo le istanze di tutti i cittadini e non delle casse di partito, quindi probabilmente questa novità deve essere sottasciuta perché potrebbe essere forse un elemento di innovazione, potrebbe essere spunto per diversi cittadini italiani per ribellarsi a un sistema che va avanti da troppo tempo. Ma secondo te questo significa che se queste persone sono costrette ad entrare in politica e sono dei servitori dello Stato, cioè si battono per la giustizia, vuol dire che lo Stato stesso non è più in grado di tutelare queste istanze? Io purtroppo mi sento di dover dire esattamente quello che penso e non è una cosa assolutamente positiva, io credo che lo Stato non vuole proteggere perché se lo Stato avesse voluto proteggere determinate persone ed evitare e fare in modo anche che queste persone potessero continuare a fare la loro attività, chi da magistrato, chi da giornalista, allora forse non saremmo qui a parlarne. Io purtroppo credo, così come è successo per tanti anni, come per esempio nel caso di Falcone o nel caso di Borsellino, io credo che questo Stato non solo non sia stato in grado di proteggere, credo che non abbia voluto proteggere queste persone e ce lo dimostra il fatto che a distanza di tanti anni lo stesso Stato nega loro diritto di giustizia e di verità. Quali sono le cause? In pratica ci ha detto di sì, di fatto lo Stato sembra volersi disinteressare in parte di chi lotta alla mafia, di chi lotta contro la criminalità organizzata e il malaffare tra politica e criminalità, quali sono le cause e chi sono i protagonisti? Di chi è la colpa di questa situazione? Io credo che la colpa in questo momento non sia soltanto dei politici corrotti o dei politici che si sono assuefatti ad un sistema. Io credo che in questa situazione ci sia anche una parte di responsabilità dei cittadini, di noi stessi che per troppo tempo siamo stati silenti davanti a situazioni del genere e rispetto a queste situazioni non si può non evidenziare gente come, in maniera assolutamente trasversale, ma gente come Dell'Utri, gente come Crisafuli, gente come il Ministro della Giustizia Alfano che continua a parlare di giustizia quando lui stesso è stato fotografato al matrimonio della figlia del boss Croce Napoli mentre si intratteneva piacevolmente. Non è credibile, Renato Schifani che fa il Presidente del Consiglio del Presidente del Senato, scusatemi, non è credibile quando lui parla di lotta alla mafia, quando lui parla di legalità non è credibile perché lui era socio nella Sicula Brokers con il boss di Villa Abate, il boss Mandala. Non può essere credibile Berlusconi, uno che ha costruito il suo partito con i soldi della mafia, non possono essere credibili queste persone, per cui c'è una volontà da parte di queste persone che oggi rappresentano lo Stato e francamente non credo che ci si possa riconoscere con loro. Un altro dato importante sono, come hai citato già tu, le recenti vicende di cronaca legate a Genchi, De Magistris, prima ancora la Forleo, poi a Picella e si nota quindi una sempre più influenza, sempre più pesante della politica sulla magistratura, quando invece sappiamo che costituzionalmente i tre poteri dovrebbero essere ben divisi. Fino a dove può arrivare questa deriva? Infatti la nostra Costituzione dice che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, oggi credo che questo articolo della Costituzione sia stato cancellato di fatto, anche se non è stato cancellato con un nuovo impianto normativo, perché, e ce lo ha dimostrato quello che è successo ad Apicella, De Magistris e alla Forleo, ma i giudici sono soggetti fondamentalmente all'abuso politico, perché non può intervenire ai tempi di Mastella, oggi Alfano, che dice al CSM cosa fare rispetto a certi magistrati. Il problema è proprio questo, che se i cittadini in prima persona non si attiveranno, la deriva continuerà ad essere, diremo sempre che stiamo toccando il fondo, ma in realtà quello che accadrà sarà sempre peggio, per cui ogni volta ci renderemo conto che un fondo non esiste e che continueremo a sprofondare sempre più. E cosa si può fare allora per far tornare l'Italia in una realtà in cui lo Stato fa lo Stato? Io non ho questa ricetta, né mi arrogo il potere di averla, però credo che se ognuno di noi intanto tornasse a capire, tornasse ad avere autostima, tornasse a capire quanto è fondamentale la propria dignità e soprattutto tornasse ad avere la voglia di partecipare alla vita politica, alla vita sociale delle proprie realtà e la smettesse di delegare a gente che non conosciamo, gente con cui non abbiamo mai parlato, gente che non sappiamo neanche che cosa vuole fare e quali sono i loro obiettivi. Allora, se non ritorniamo a trasmettere questo amore rispetto ai cittadini, rispetto alle proprie istituzioni, io credo che loro continueranno ad avere strada spianata e quello che per me è importante è che invece i cittadini riscoprano non solo l'amore di appartenenza a questo Paese che ha fatto davvero sacrifici, che ha dato gli uomini migliori per queste battaglie, ha sacrificato gli uomini migliori. Penso che purtroppo se ognuno di noi non prenderà coscienza di tutte queste situazioni, di tutte queste vicende e non si impegnerà in prima persona e non darà il giusto speso al proprio potere di voto, allora credo che non avremo grandi possibilità. Io invece spero che le nostre candidature vengano viste dai cittadini come la leva per poter far saltare un coperchio che da troppo tempo continua ad essere spinto su questa pentola. In molti dei suoi interventi ha usato parole forti riguardo alla strage di Borsellino, tornando sempre al discorso degli uomini migliori a cui dovremmo in teoria ispirarci, l'ha definita come una strage di Stato, perché? È una strage di Stato perché proprio oggi nel nostro Parlamento ci sono, tra le più alte istituzioni, tra le più alte cariche ci sono quegli uomini che oggi dimenticano che era Paolo Borsellino e che hanno avuto un ruolo molto forte in quella decisione. Io sono certa che nella strage di Via D'Amelio la mafia ha posizionato il materiale, ha posizionato il Semtex che è l'esplosivo utilizzato, sono certa che la mafia ha posizionato quella macchina là, ma sono certa che altri hanno premuto quel bottone e sono certa che oggi lo Stato nasconde questa verità, se la nasconde è perché evidentemente lo Stato, come diceva Sciascia, non può processare se stesso. Ancora però non c'è nulla di sicuro, nel senso che nella magistratura, nelle indagini hanno rivelato i nomi oppure si sa qualcosa in più? Il problema è che lo Stato non vuole che la magistratura indaghi, questo è il punto. Ricordiamoci che proprio pochi giorni fa fu respinta la richiesta dalla Procura di Caltanissetta e rinviare a giudizio il Tenente Arcangioli che è quel carabiniere che molti di noi avranno visto fotografato perché si allontanava dalla strage di Via D'Amelio con in mano la borsa di Paolo Borsellino, dentro quella borsa c'era l'agenda rossa di Paolo e proprio in quell'agenda Paolo annotava tutti i suoi incontri e c'erano tutti i suoi appunti, quindi quella potrebbe essere la porzione di verità più grande. Infine una domanda relativa proprio alla tua candidatura, una domanda che in molti si fanno, come mai voi avete scelto, tu come Vulpio, come De Magistris, le elezioni europee e magari non le amministrative che più o meno in molte parti d'Italia saranno concomitanti? No, io personalmente ho già fatto questa esperienza, l'ho fatta l'anno scorso come grillina perché ero il candidato alla presidenza della regione siciliana e i miei avversari erano due titani, Raffaele Lombardo, quello che poi è diventato presidente esponente dell'MPA e del PDL e dall'altra parte mi ritrovavo Anna Finocchiaro del PD, devo dire che noi abbiamo avuto un fortissimo consenso di 70 mila voti pari quasi al 3%, nessuno se lo aspettava e siamo diventati la terza forza politica in Sicilia, per cui per quanto mi riguarda è arrivata questa proposta, l'ho valutata con tutti i grillini, con il mondo dell'associazionismo da cui provengo e abbiamo considerato come un'opportunità unica proprio per esportare fuori l'allarme di emergenza democratica che vive il nostro paese.